Ciao a tutti, sono Domenico Petrolino, quinta parte di questo episodio di Non puoi non saperlo dedicato alla Shoah. Avevamo concluso il video precedente dicendo che inizialmente Eichmann riesce a convincere i dirigenti rumeni a consegnare circa 300.000 ebrei. Ma l'11 ottobre del 1942 il dittatore rumeno Ion Antonescu, sottoposto a pressioni da parte del Nunzio Papale, da personalità ebraiche e dalle autorità svizzere, ordina il rinvio delle deportazioni. Anche in Bulgaria le autorità locali si oppongono alle richieste tedesche, consegnando soltanto, tra virgolette, 11.000 ebrei, provenienti dai territori recentemente annessi, che verranno uccisi a Treblinka. Prima di procedere vorrei ringraziarvi per aver scelto di guardare questo video, per la pazienza che avete con la pubblicità e ricordarvi che i testi dei miei video e gli altri miei libri sono disponibili su Amazon, sia in formato ebook, sia in formato cartaceo. Libri e pubblicità sono un modo per sostenere il canale, quindi grazie in anticipo per ogni vostro contributo. Trovate il link alla mia pagina Amazon nella descrizione di questo video. Per quanto riguarda l'Ungheria, la popolazione ebraica nel paese è molto numerosa, circa 800.000 persone. E nel 1942 il governo ungherese resiste alle pressioni dei diplomatici tedeschi, con un intervento diretto dello stesso Hitler, a favore dell'introduzione di leggi anti-ebraiche e della deportazione all'est. Il 19 marzo del 1944, però, la Wehrmacht occupa l'Ungheria e la dirigenza nazista può quindi imporre un radicale cambiamento della politica ungherese, avviando dal 14 maggio le deportazioni ad Auschwitz per un totale di 438.000 ebrei, dei quali 394.000 vengono uccisi immediatamente. Con l'annientamento degli ebrei ungheresi, tra maggio e giugno del 1944, il campo di Auschwitz raggiunge il culmine della sua attività di sterminio, che vede la capacità dei nuovi inceneritori portata a 132.000 cadaveri al mese. Nel campo di Auschwitz verranno deportati oltre 1.600.000 ebrei, dei quali oltre 1.400.000 perdono la vita. Circa 220.000 sono adolescenti e bambini. Il peggioramento su tutti i fronti della situazione bellica per la Germania provoca un ultimo cambiamento dei piani tedeschi sulla questione ebraica. Si decide infatti di abbandonare e radere al suolo i campi dell'est esposti all'avanzata dell'Armata Rossa, per cancellare ogni prova dello sterminio, e di trasferire i detenuti superstiti in Germania, uccidendo quelli non ritenuti in grado di affrontare il viaggio in carri bestiame o a piedi. Tra i prigionieri che vengono costretti alle cosiddette Marce della Morte, circa 100.000 moriranno di fame. Fin dalla metà del 1942 Himmler aveva ordinato la cosiddetta Sonderaktion 1500-1005, ossia la sistematica riesumazione e il successivo incenerimento e triturazione delle ossa di tutti i cadaveri dei deportati, sempre al fine di occultare ogni traccia del genocidio. La maggior parte del personale impiegato nel corso dell'operazione è composto da prigionieri ebrei, che vengono successivamente uccisi per preservare il segreto. I campi dell'operazione Reinhard vengono rasi al suolo in tempo, ma le autorità tedesche non riescono a impedire che il campo di Maidanek, a Lublino, cada ancora intatto il 23 luglio del 1944 in mano ai soldati russi. Alla fine del 1944 Himmler ordina di accelerare la distruzione di Auschwitz, ma il programma è ancora in corso quando le truppe dell'Armata Rossa liberano il campo il 27 gennaio del 1945, trovando ancora prigionieri, documenti ed enormi quantità di effetti personali delle vittime. Dai documenti dell'Armata Rossa risulta la liberazione di 2819 prigionieri e il ritrovamento di 348.820 abiti maschili e 836.255 cappotti e abiti femminili. Nella primavera del 1945 Himmler intraprende contatti con personalità di nazioni neutrali per cercare di negoziare la fine della guerra. Il 20 aprile del 1945 ha anche un colloquio con Norbert Masur, un influente ebreo esule tedesco, durante il quale sostiene la sua preferenza per le politiche di espulsione, che secondo lui erano fallite a causa del rifiuto del mondo di accettare gli ebrei. Giustifica poi il genocidio come misura preventiva contro le masse di ebrei proletari, partigiani e malati, definisce i crematori misure sanitarie e i lager campi di educazione. Himmler acconsente quindi al rilascio di mille donne ebree, ma i detenuti negli ultimi campi ancora attivi continuano a morire. In aprile, appena prima della liberazione da parte dei sovietici, vengono uccisi a Ravensbrück, duemila ebrei, tra cui donne incinte e neonati. A Buchenwald, durante l'ultima marcia della morte verso Dachau, perdono la vita tra i 13.000 e i 15.000 ebrei. Per quanto riguarda la situazione dei circa 44.000 ebrei italiani, dopo l'armistizio reso noto l'8 settembre del 1943 e la nascita della Repubblica Sociale Italiana, le autorità tedesche che decidono per la deportazione all'est anche di questa comunità ebraica. Il 16 ottobre del 1943 viene effettuato il rastrellamento del Ghetto di Roma, che porta all'arresto di 1.259 persone. Il 30 novembre, infine, il ministro dell'interno Guido Buffarini Guidi ordina l'internamento in campi di concentramento italiani di tutti gli ebrei d'Italia, in vista del loro successivo trasferimento all'est. Nel corso della primavera del 1944, le SS prendono possesso dei campi di raccolta italiani e deportano circa 8.000 prigionieri ad Auschwitz e Bergen-Belsen, dove solo 820 sopravvivono. Viene inoltre attivato un campo di sterminio alla risiera di San Sabba, nella città di Trieste, dove vengono uccisi migliaia di prigionieri tra partigiani, oppositori politici ed ebrei. La macchina dello sterminio viene mantenuta sempre nella massima segretezza. Nessuna indicazione viene fornita sulla destinazione dei convogli ferroviari che da tutta Europa trasferiscono gli ebrei, e per tranquillizzare le vittime vengono diffuse voci su nuovi insediamenti creati appositamente per i deportati. Nel territorio del Reich sono però evidenti i segni di ciò che sta accadendo, con retate nelle strade, ebrei che scompaiono dalle loro case e voci che si diffondono tra la popolazione tedesca. Tanto che il 9 ottobre del 1942 la cancelleria del partito nazista è costretta a diffondere un documento ufficiale parlando di ebrei diretti verso est per essere impiegati nei campi di lavoro, oppure di ebrei anziani e decorati di guerra reinsediati. Nell'agosto del 1942 Gerhard Rigner, direttore dell'ufficio del World Jewish Congress in Svizzera, viene messo al corrente della situazione da un informatore e invia un telegramma a importanti personalità ebraiche americane in cui scrive di allarmanti notizie provenienti dal quartier generale di Hitler, di sterminio in un colpo solo di 3,5-4 milioni di ebrei nei paesi controllati dalla Germania e che sulle modalità di esecuzione si era parlato di acido prussico, cioè acido cianidrico. Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna in un primo momento si dimostrano scettici verso questa notizia, ma già pochi mesi dopo, nell'autunno del 1942, le testimonianze sul genocidio in corso diventano sempre più numerose. Il 17 dicembre, infine, tutti i governi alleati diramano una dichiarazione ufficiale in cui sostengono di essere a conoscenza che è in atto l'annientamento del popolo ebraico d'Europa da parte dei nazisti e che i responsabili sarebbero stati catturati e puniti alla fine della guerra. Ulteriori dettagli e conferme arrivano dopo la miracolosa fuga da Auschwitz il 7 aprile del 1944 di due ebrei slovacchi, Rudolf Verba e Alfred Wetzler, che riescono a raggiungere la Slovacchia il 21 aprile e a fornire un dettagliato resoconto di ciò che accade nel campo. In base a queste informazioni vengono pubblicati i cosiddetti protocolli di Auschwitz dalla stampa americana. Nella fase finale della guerra si pensa di impiegare bombardieri pesanti alleati per colpire le linee ferroviarie dirette ad Auschwitz o per bombardare lo stesso campo di sterminio di Birkenau. Ma il 4 luglio del 1944 la proposta viene respinta dagli americani per via della sua impraticabilità tecnica e inutilità strategica che avrebbe distolto preziose forze da altri compiti. Alla metà di luglio anche Londra si dichiara non favorevole alla proposta nonostante un primo interessamento di Churchill. Riguardo alle organizzazioni internazionali di soccorso la Croce Rossa internazionale pur informata sugli avvenimenti non riesce ad agire in modo attivo ed efficace. I funzionari dell'organizzazione si limitano infatti a visitare sotto supervisione nazista pochi campi modello ma non intervengono per migliorare la condizione dei deportati né lanciano appelli di pubblica condanna. Seppur la Chiesa Cattolica si impegni in un silenzioso sforzo per alleviare le sofferenze e aiutare materialmente gli ebrei durante il conflitto Papa Pio XII non esprime mai una posizione ufficiale di condanna del genocidio pur essendone informato fin dagli inizi del 1942. Gli studiosi che difendono la posizione del Vaticano sostengono che ogni dichiarazione avrebbe potuto sia peggiorare la situazione degli ebrei sia scatenare rappresaglie sui cattolici mentre i critici hanno sottolineato che una presa di posizione del Papa avrebbe potuto avere un'influenza positiva e in ogni caso non avrebbe potuto influire negativamente sulla situazione degli ebrei che era già la peggiore possibile. Altri hanno poi interpretato il riserbo del Papa come dettato dalla sua volontà di non indebolire la Germania nazista considerata un baluardo in Europa contro la minaccia dell'Unione Sovietica comunista. Hitler non diramerà mai alcuna direttiva scritta per l'attuazione del genocidio anzi decreterà che la cancelleria del Führer non deve in nessuna circostanza risultare parte attiva in questa materia la soluzione finale rimane così un segreto di stato o come la definisce il generale Alfred Jodl al processo di Norimberga un capolavoro di occultamento Nel luglio del 1943 Hitler fa circolare una direttiva confidenziale che impone di non usare l'espressione soluzione finale ma solo quella di ebrei mandati a lavorare all'est insistendo sulla necessità di trattare il problema ebraico in modo freddo scientifico dimostrandosi inoltre sempre riluttante ad apprendere i particolari degli eventi in corso il numero delle vittime del genocidio degli ebrei d'Europa è ancora oggi oggetto di dibattito ma durante il processo di Norimberga si stabilisce un numero ufficiale di 5 milioni e 700 mila morti numero che concorda con i dati del Consiglio Mondiale Ebraico l'anno con il maggior numero di morti è il 1942 il periodo dell'operazione Reinhard con 2 milioni e 700 mila ebrei uccisi le condizioni di annichilimento della persona nei campi di sterminio sono state illustrate con grande efficacia da numerosi scrittori tra le opere più significative ricordiamo Se questo è un uomo dello scrittore italiano Primo Levi deportato ad Auschwitz e miracolosamente sopravvissuto fino alla liberazione da parte dei soldati sovietici Nel 1962 una commissione guidata dalla suprema corte israeliana ha ricevuto l'incarico di conferire il titolo onorifico di giusto tra le nazioni ai non ebrei che durante la Shoah hanno agito in modo eroico rischiando la propria vita per salvare quella di chi era ingiustamente perseguitato A tutt'oggi sono stati riconosciuti oltre 24.000 giusti tra le nazioni di cui circa 500 italiani Tra gli altri citiamo Don Giulio Facibeni Giovanni Palatucci Giorgio Perlasca e Guelfo Zamboni Abbiamo così terminato questo episodio di Non puoi non saperlo dedicato alla Shoah Iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi e come sempre un sincero grazie per l'attenzione Ciao a tutti e alla prossima